Romagna Sport, primo dal 2001. La prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calcio mercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova puntata di Fischio Finale. Partiamo subito andando a vedere quelle che sono, per quanto riguarda questa giornata di campionato, le novità, gli smottamenti che riguardano tutte le diverse classifiche dei campionati che prendiamo in considerazione dalla Serie A fino alla seconda categoria. Sarà molto ricca anche questa pagina, ma in realtà abbiamo pagine ricche sostanzialmente in ogni dove. E allora andiamo subito a presentare le persone che daranno vita e animo a questa nostra puntata. Parliamo ovviamente di Danica Russo. Ciao Danica, buonasera. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Siamo di nuovo insieme. Ben ritrovata Danica, ben ritrovato al mister Giancarlo Magrini. Buonasera mister. Salve, buonasera a tutti. Felizzo di essere qui con voi. Assolutamente. Anche per noi un piacere Giancarlo. C'è tanto di cui parlare. Anticipiamo, c'è da vedere come il Cesena ha ritrovato i tre punti con un grande successo in casa del Limolese nel derby, ma anche il Rimini festeggia e attualmente anche il Ravenna. E allora non perdiamo tempo, vediamo subito risultati e classifiche cominciando dalla Serie A. Cominciamo subito con la ventiquattresima giornata per Atalanta-Roma 2 a 1, Bologna-Genoa 0 a 3, Juventus-Brescia 2 a 0, Lecce-Spal 2 a 1, Sampdoria-Fiorentina 1 a 5, Sassuolo-Parma 0 a 1, Udinese-Verona 0 a 0, Cagliari-Napoli iniziata all'ore 18, Lazio-Inter posticipo all'ore 20.45 e Milan-Torino domani all'ore 20.45. E se la scorsa giornata aveva segnato il riavvicinamento dell'Inter vittoriosa nel derby e della Lazio ad una Juventus sconfitta in quel di Verona, quest'oggi la Juve si porta avanti con i lavori battendo il Brescia e aspettando a questo punto con grande interesse quello che sarà il posticipo di questa sera. La sfida fra Lazio e Inter, Juventus davanti proprio di tre punti rispetto ai nerazzurri e di quattro rispetto alla Lazio, ma posizione per la Champions già molto definite perché arriva all'allungo dell'Atalanta, i danni della Roma 2 a 1 in rimonta e attualmente più 6 proprio sui capitolini, quasi a delineare una griglia play-off che solo la Roma e poche altre potranno mettere in discussione da qui alla fine del campionato. Intanto invece in Serie B domina autenticamente il Benevento. Ce ne parla Danica con i risultati. Benevento-Pordenone 2 a 1, Cremonese-Trapani 5 a 0, Frosinone-Perugia 1 a 0, Juve-Sabia-Crotone 3 a 2, Livorno-Cosenza 0 a 3, Pescara-Cittadella 1 a 2, Spezia-Ascoli 3 a 1, Venezia-Virtu-Sentella 2 a 2 e poi Empoli-Pisa-Possicci-Pollore 21, Chievo-Salernitana domani all'ora 21. Benevento che come dicevamo non dà tregua, altra vittoria per la squadra di Pippo Enzaghi, ottiene il 2 a 1 ai danni della Pordenone e mantiene tutte le distanze, anzi le rassicura, almeno nel caso della Frosinone ormai precipitato addirittura a meno 20, ma anche le altre non scherzano. Spezia e Frosinone a 40 punti, meno 17 rispetto alla capolista a cui ormai manca solo di attendere la giornata in cui festeggerà il salto di categoria. Affonda invece pesantemente il Trapani da una Cremonese che si prende lo scontro salvezza addirittura con la 5 a 0, davvero un brutto risultato per la squadra di Fabrizio Castori. Ma come dicevamo ci sono risultati davvero eclatanti, importanti per la Romagna del calcio in Serie C, tra cui come dicevamo anche la sfida che sta attualmente disputando in Ravenna. Sentiamo. Carpi-Piacenza 3 a 0, Ferrag-Pisalò-Guppio 3 a 3, Imolese-Cesena 1 a 4, Padova-Fermana 0 a 1, Rimini-Modena 2 a 0, Suttiro-Alfano 2 a 0, Triestina-Vispesaro 4 a 0. San Benedetti a sera venne iniziata alle ore 17.30, così come Vicenza-Virtus-Verona e Reggio-Dacia-Arzignano domani alle ore 20.45. E allora, come detto, la giornata inaugurata dall'anticipo, la vittoria del Rimini che commenteremo più tardi in questa nostra puntata 2 a 0 ai danni della Modena. Quest'oggi un altro successo determinante per la zona salvezza, il Cesena che dilaga in quel di Imola 4 a 1 per i bianconeri, ma intanto si stanno disputando, come diceva Danica, due partite, 0 a 0 il punteggio, quello tra Vicenza e Virtus-Verona e il Ravenna, che stava perdendo in casa della San Benedettese col gol di Miceli, poi il gol di Nocciolini, poi il gol di Mokulu, 2 a 1 attualmente per il Ravenna. In quel di San Benedetto del Tronto manca ormai appena un quarto d'ora alla fine. Vediamo intanto la classifica che non contempla i punti che sono attualmente in palio, tra cui proprio quello del Vicenza che non riuscirebbe ad allungare, anzi sarebbe avvicinato dal Carpi, quest'oggi vittorioso nel derby con la Piacenza, Vicenza come dicevamo fermo sullo 0 a 0 con la Virtus-Verona, ma vediamo la zona salvezza, abbiamo un Cesena che scappa via rispetto alla Vis-Pesaro, 30 punti per i bianconeri che agganciano forse solo momentaneamente la Virtus-Verona, il Rimini che scavalca il Fano, in ultima posizione adesso la squadra marchigiana sconfitta quest'oggi in casa della Sutirol, ma in caso di vittoria anche il Ravenna compierebbe un balzo eclatante riagganciandosi a Gubbio e Vis-Pesaro. Arriva intanto anche un successo, quello della Forlì, nella campionato di serie di Girone D, a fronte di altri risultati molto compositi. Calvina Savignanese 3 a 0, Ciliverghe Breno 0 a 0, Fanfulla Mezzolara 1 a 1, Forlì Fiorenzuola 1 a 0, Lentigione Progresso 2 a 1, San Maurese Alfonsine 0 a 0, Sassomarconi Crema 1 a 2, Sporting Franciacorta Mantova 2 a 1, Vigor Carpaneto Correggese 2 a 1. È la giornata negativa per le prime tre forze del campionato, udite udite anche per il Mantova, prima sconfitta stagionale contro uno Sporting Franciacorta che la settimana scorsa era stato sconfitto dall'Alfonsine, poi è successo di tutto in una settimana molto caotica in casa bianco-blu e quest'oggi l'Alfonsine comunque ha dimostrato compattezza, torna al proprio mister a Gori che è stato riconfermato e Gori quest'oggi ha strappato 1 a 0 con il suo Alfonsine in casa della San Maurese, invece inizia col piede sbagliato l'avventura di Alessandro Mastro Nicola, Savignanese sconfitta invece in casa del Calvina in un altro scontro fondamentale per portarsi a casa dei punti salvezza, chiaramente Calvina con ben altre ambizioni, come dicevamo Mantova sconfitto, Fiorenzuola KO in casa della Forlì 1 a 0 il punteggio finale ma KO anche per la Correggese, insomma si può riavvicinare il lentigione e il Forlì invece risale in posizione vicina ai playoff. Come detto questo nel girone D, nel girone F abbiamo un Cattolica SM rimontato. Atletico Fiuggi, Olimpia Agnonese 1 a 0, Avezzano Recanatese 0 a 0, Campobasso Porto Sant'Elpidio 3 a 0, Chieti Montegiorgio 2 a 2, Jesina Pineto 1 a 1, Notaresco Tolentino 1 a 1, Real Giulianova Cattolica 1 a 1, San Giustese Matelica 0 a 2, Vasto Girardi Vastese 2 a 1. Si riapre per l'ennesima volta la corsa al primo posto, Matelica che passa in casa di una San Giustese che in settimana ha esonerato mister Nicola Campedelli, San Giustese anzi Matelica adesso a meno 3 rispetto al Notaresco bloccato sul pari contro il Tolentino ma come dicevamo il Cattolica continua a muovere la propria classifica non riuscendo però ad accorciare le distanze se non di un punto rispetto al Porto Sant'Elpidio che adesso è la vera chimera per lottare addirittura per la salvezza diretta attualmente sono 6 i punti che dividono queste due formazioni appunto Cattolica e Porto Sant'Elpidio avanziamo ci spostiamo nell'eccellenza dove c'è una capolista assolutamente dominante. Tanti scontri d'alta contro bassa classifica vittorie per le squadre più blasonate vincono sostanzialmente tutte le squadre che comandano questo campionato soprattutto la Marignanese che mantiene i tre punti di vantaggio rispetto al Diegaro con la 3 a 0 in casa del Cavaronco Diegaro che però batte il Sant'Agostino in un match sicuramente molto complicato ma portato a casa da parte dei Cesenati e altra vittoria quella della Corticella per rimanere in terza posizione 3 a 2 ai danni della Masi Torello ma dietro non mollano quantomeno nella corsa per ravvicinarsi anche al secondo posto del Duca Ribelle e Fiericcione entrambe appaiata 42 punti. Andiamo nel girone C si sta veramente complicando la situazione nella zona d'alta classifica con i risultati di oggi. Bentivoglio, Sassomarconi 4 a 2, Casumaro, Val Santerno 0 a 2, Cotignola, Tretico, Castenaso 2 a 0, Faro, Castness 3 a 0, Lavezzola, Trebbo 1 a 1, Massa Lombarda, Sesto e Molese 3 a 0, Mesola, Libertas, Castel San Pietro 2 a 0, Porretta, Solarolo 1 a 1, Riolo, Terme, Enzolavino 0 a 0. Se rimane in auge la capolista, il Val Santerno addirittura con un bel margine, incrementato quest'oggi 45 punti più 4 rispetto però a chi sta tornando in auge, parliamo della Cotignola 2 a 0 nel big match contro l'atletico Castenaso e secondo posto dunque tornato di stretta attualità anche perché pareggia Lanzolavino 0 a 0 in casa del Riolo Terme e poi prova a rientrare nella zona playoff il Massa Lombarda che vince il derby col Sesto e Molese 3 a 0. Andiamo nel Gironi di Sì, conferma il Russi. Torconca 1 a 2, 2M San Pierana 1 a 2, Faenza Pietracuta 2 a 0, Gambettola San Pietro in Vincoli 0 a 2, Gatteo San Termete 0 a 1, I Giabellari a Reno 2 a 1, Russi Bagnacavallo 2 a 1, Sparta Castel Bolognese, Fosso Ghiaglia 1 a 1, Vismisano, Vismuva Feltria 1 a 1. Eh sì, la capolista continua a collezionare vittorie quest'oggi battendo il Bagnacavallo e match che consente al Russi a questo punto di mantenere le distanze rispetto a tante altre formazioni non però il Pietracuta che accusa un altro stop contro il Faenza, ormai autentica vera forza di questo campionato terzo posto per i Manfredi ma secondo posto confermato dalla Torconca vittorioso ieri nell'anticipo contro il Cervia dunque più quattro attualmente le distanze, la distanza di sicurezza ottima per il Russi ma vittoria anche per il San Pietro in Vincoli 2 a 0 in casa della Gambettola attualmente sono queste quattro le squadre che si stanno disputando la vittoria del campionato e di vittoria del campionato si può parlare nella Girone G ma con un bel rimescolamento delle carte Eh sì, era match da circoletto rosso e ve lo mostreremo quello tra Meldola e Carpena, squadra che lotta per i play-off contro la capolista squadra il Carpena che ha sorpreso il Meldola, capolista sì adesso ma raggiunto di nuovo dalla Fratta Terme 6 a 0 addirittura in casa della Fontanelice per riportarsi al primo posto ma sale anche il Savarna che accorcia rispetto alla prima posizione meno 4 adesso per i Ravennati che approfittano anche del K.O. del San Leonardo per staccare la squadra il San Leonardo appunto di 5 punti. Chiudiamo con il Girone H anche qui davvero un bel campionato Altavalcon, Caverucchio 1-2, Asarriccione, San Vittore 1-1, Athletic Poggio, Roncofreddo 0-2, Delfini Rimini, Stella 0-0, Granata, Mondaino 2-1, Morciano, Spontricciolo 1-1, Perticara, Polisportiva Sala 0-1, Riccione, Villamarina 1-1 e allora andiamo a vedere la classifica di questo campionato che vede lo Spontricciolo quest'oggi bloccato sul pareggio e una Granata che invece ne approfitta il Granata che può riprendersi la vetta del campionato 2-1 ai danni del Mondaino e Formazione che a questo punto si ritrova in prima posizione appaiata anche qui davvero due bellissimi gironi in prima categoria con lo stesso Verucchio, terzo incomodo ma di lusso, 2-1 in casa dell'Alta Valconca e attenzione alla stessa Polisportiva Sala che non fallisce la sfida alla penultima, alla Perticara Insomma ci manca solo da vedere che cosa sta per accadere, come sta per finire il match della Ravenna siamo sempre sulla 2-1, siamo nei minuti conclusivi dell'incontro Danica fermiamoci, vediamo se nel frattempo arriva un triplice fischio che sarebbe preziosissimo E allora lanciamo il nostro primo lancio istituzionale con FAM Batterie Qualità, affidabilità, convenienza, velocità, tutto in una parola, si dice FAM Batterie Meldola FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie con anche il servizio di installazione Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie perché l'energia al giusto momento fa la differenza Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online Torniamo allora in diretta con Fischio Finale Torniamo in diretta come detto e ufficializziamo la grande vittoria del Ravenna Davvero tre squadre quest'oggi che hanno ottenuto il bottino pieno Limolese unica sconfessata chiaramente dal turno che la vedeva opposta rispetto al Limolese Vediamo proprio gli ultimi due aggiornamenti In attesa dell'ultimo posticipo Reggiana contro Arzignano Ravenna che passa con il 2-1 firmato dai gol di Nocciolini e Mokulu Per rispondere al gol di Miceli e poi come dicevamo lo 0-0 tra Vicenza e Virtus Verona E allora la classifica si fa sensibilmente più positiva per quanto riguarda le formazioni romagnole Una classifica che attualmente vede, lo state già vedendo Il Ravenna che sale a 27 punti, resta a ruota dello stesso Cesena che ha spiccato un balzo fondamentale Cesena che va a meno 1 rispetto alla Virtus Verona E lo stesso Rimini che festeggia a quota 20 la fine dell'ultimo posto in classifica E allora ne abbiamo parlato a lungo del match della Cesena È il momento adesso di vedere la lunga sintesi che ci è arrivata E che sintetizza il 4-1 ottenuto dai bianconeri in casa dei Limolese Solo su 11 Sports la tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend Dalla Cesena alla Cesena per Limolese Intanto abbiamo visto anche lo striscione dedicato alla memoria di Marco Pantani Dai tifosi del Cesena, Pantani scomparso nel 2004, il 14 febbraio Dunque un giusto ricordo per il grande pirata Ma come dicevamo dal Cesena al Cesena per Limolese Che aveva inaugurato la nuova gestione a Zori Proprio con una sconfitta in casa del Cavalluccio Quest'oggi il Cesena che voleva dare continuità ai primi due pareggi della nuova gestione Viali Ed è un Limolese che si fa sicuramente apprezzare nella prima parte del match Pericolosa questa battuta di Ferretti respinta da Marsoni in angolo Proprio dal corner il nuovo pericolo per la porta bianconera Un batti ribatti in area di rigore E poi il colpo di testa da parte di Belcastro Alto sulla traversa per un Limolese che cerca comunque di sbloccare l'incontro Altro cross per Ferretti in area di rigore E l'intervento di Valeri che va via palla al piede Nonostante le proteste del giocatore del Limolese Non ci pare di vedere un tocco con la mano come invece segnalava l'ex di turno Cesena però ficcante quando si ripropone in attacco In area di rigore Catturano fallisce la chance Fallisce sull'assist splendido da parte di Borello Catturano forse allunga il passo troppo in anticipo per poter colpire la porta rosso-blu Rosso-blu dalla parte opposta con questa battuta alta da parte di Belcastro Per un match molto equilibrato Siamo ancora all'interno della prima mezz'ora di gioco C'è un'altra possibilità come vediamo con il disimpegno Valeri in questo caso un po' disattento Uno dei migliori in campo ma in questo caso perde palla Valeri Concede l'opportunità a Garattoni Il suo destro e Marson è molto attento Un match come dicevamo inchiodato sullo 0-0 Limolese ancora pericolosa Questa battuta però è troppo debole per impensierire il portiere della Cesena Quella ancora del solito Ferretti spostiamoci Siamo adesso al 36esimo minuto In attacco c'è il Cesena C'è la possibilità per una fuga sulla destra Splendida di Zampano Mette al centro il cross E c'è il gol di Zerbin Che sblocca l'incontro al Galli Cesena avanti sull'1-0 Con uno dei beneficiati massimi Della nuova gestione Viali Zerbin Autentico uomo della provvidenza In queste prime esibizioni Della nuova Cesena Esultano i tanti spettatori Giunti proprio dalla città del Savio Con la battuta vincente Sottomisura Da parte proprio di Zerbin E a questo punto il Cesena Non si guarda più indietro Valeri per Cappellini Splendido il gioco Il numero del 32 E poi spara alto Catturano Che è ancora alla ricerca del suo primo gol Su azione con la maglia della Cesena E poi l'ingenuità grave dell'Imoleze La trattenuta in area di rigore Di Valò Ai danni di Valeri Calcio di rigore per il Cesena Da dischetto si presenta Proprio Sasaka Turano Il suo sinistro vincente Il raddoppio del Cesena Che a questo punto si comanda letteralmente Le operazioni In casa dell'Imoleze Un Cesena come vediamo Che può a questo punto Gestire il match Può avvalersi anche Della spinta Che arriva letteralmente Dai propri sostenitori Tornati dunque entusiasti Come era stato All'inizio della stagione Prima delle tante difficoltà Siamo già giunti nella ripresa Siamo al quarto minuto Una serie di cadute Dopo una serie di contatti Ne approfitta proprio Zerbin Che salta già Maria Rossi E sigla il Tris Tra le proteste Come vediamo a Monito Anche il portiere Dell'Imoleze Rossi Reclamavano uno O forse anche due falli Cercheremo di capire qualcosa di più Nel replay Ma intanto Il gol viene convalidato Ecco qua Due contatti Vanno a terra Due giocatori Dell'Imoleze Si tratta di Boccardi Alimi Tutto regolare E allora Molto freddo e lucido Il giocatore del Cesena Che firma il 3-0 Match a questo punto Che il Cesena interpreta Nella migliore dei modi L'errore in questo caso È dell'Imoleze Sbaglia Carini In area di rigore Si presenta Catturano E da lì Non fallisce Poker Per il Cesena Un'autentica pioggia di gol Che quest'anno ancora Non si era vista Imoleze invece Travolta letteralmente Dall'onda d'urto Della squadra Bianconera Che sta letteralmente Dominando la scena Davvero Si spellano le mani I sostenitori del Cesena E come vediamo Molto abile Il giocatore Ex Tra l'altro Della Virtus Entella E del Lecce Spostiamoci Siamo al 78esimo minuto C'è la possibilità Per Padovan Che si accentra Il suo sinistro Palla che resta In area di rigore La battuta Per poco Non viene respinta Da Marson È il gol Della bandiera Per l'Imoleze Quello di Valò Il 4-1 Che non cambia L'inerzia del match Chiaramente Tutto appannaggio Del Cesena Restituisce solo Un briciolo Di speranza L'Imoleze Qui sfortunato Marson Respinta Quasi miracolosa Ma non riuscita Siamo adesso Nella 91esimo minuto Ancora in area di rigore Il Cesena C'è anche Lofaso Conclusione debole Per lui E dunque Match Che finisce così Finisce Tra il tripudio generale La prima vittoria Della gestione William Biali Arriva in casa Dell'Imoleze Cesena Vittorioso Col punteggio Di 4-1 Queste dunque Le immagini Che ci sono arrivate Dal Romeo Galli E un Cesena Che ha letteralmente Rubato la scena Da Nica Parliamone In compagnia Di mister Giancarlo Magrini Allora mister Come le è sembrato Questo derby E poi domanda D'obbligo di circostanza Che evoluzioni Ha visto Del nuovo Cesena Nel passaggio Da Modesto A William Biali Direi che Cesena L'ha scelto bene Sicuramente Come era partito Modesto Le cose Sembravano In una certa maniera Stava Così Lavorando Bene Ma gli ha girato Un bel postorto E poi dopo Come il calcio Mugugni Venivano fuori Giornata per giornata C'era creato Un ambiente Un clima Che non era più Sostribile A Buccio Stata la bravura E' stato a prendere Quest'allenatore qui Che è sulle False righe Di Modesto Stessa voglia Stesso modo Di lavorare Io siccome vado Spesso a vederli E sono molto legato Questi allenatori Siamo amici E parliamo spesso Di tutto Ci sono stato Sia venerdì mattina A Rimini E sia ieri E sabato mattina Che eravamo insieme Anche alla partita A Rimini Con Modesto E con Viali E abbiamo parlato Lungo e largo Li ho visti Lavorare Non bene Ma benissimo Come facevano Anche prima Però con più entusiasmo Con più Come è logico Che sia Quando c'è un cambio C'è qualche spostamento C'è qualche cosa Di nuovo In più C'è questo discorso Che è il calcio Prima o poi La ruota gira Stavolta è girato Veramente bene Ed è stato Bravissimo Viali A capire Quelli che in questo momento Erano in condizione migliore Per poter ottenere Il risultato Più positivo Che non avevamo bisogno Perché pensiamo Che domenica Arriva a Vicenza Presentarti con una vittoria Così fuori casa Al di là Della bravura Di tutti i ragazzi Del gruppo Dello staff Di tutti quelli che sono Però giocare Con la vittoria Che viene fuori casa Così suonante Così Sicurezza Ti dà tranquillità Sicurezza Negli schemi Nel gioco Dove Avrà anche più sopporto Che ne hai già tantissimo Anche del tuo pubblico E pensiamo Che il risultato Sia quello Soprattutto Perché la classifica È molto Positiva È molto buona Tutto sommato Che eravamo così A Natale Vicinissimi E playoff E ci siamo ancora Ci siamo tornati subito Bravi tutti Peccato Per quello che è successo Però una buona fortuna E una buona abilità Di quello che hanno trovato Ma questo è un attore Che gioca un po' più coperto Un po' più attento Per motivi Tettici e tattici In cui ognuno di noi La pensa in una maniera E questo è un attore Secondo me Ha pensato molto bene Come Il suo ruolo Lui è nato un difensore L'altro era un cursore Che l'ha abituato A attaccare Continuamente E dentro di lui Si sentiva sempre Andargli attaccare Lui invece Ragiona di più La squadra è più organizzata Uno in più E gli esterni Serve poco Su questi troppi giovani Che ci sono E lui ha intuito In fretta Questa situazione E ci ha dato Questo risultato Straordinario Risultato davvero importante Per il Cesena Che come detto Sbanca Imola Col punteggio Di 4 a 1 Così come In questo momento Sta sbancando Invece Cagliari Il Napoli Con il gol Appena arrivato Di Dries Mertens Ma noi Non abbiamo esaurito La parte dedicata Alla Serie C Perché Danica Dopo la pubblicità Dobbiamo vedere anche Come si è finalmente Sbloccato Anche il Rimini A te la parola Facciamo un salto Da Alpe Cimbra E mi raccomando Voi non cambiate canale Perché torniamo tra pochissimo Grazie a tutti Di nuovo collegati Con Fischio Finale Come anticipato Siamo nel corso Della seconda parte Della nostra trasmissione E noi continuiamo Con gli approfondimenti Dedicati Alla Serie C Perché gli amici Di Rimini Assolutamente Vogliono vedere Il modo In cui La squadra di Colella Ha saputo vincere La sfida Contro il Modena E come certificato Nel match di oggi Quello che ha perso Il Fano In casa del Sutterol Finalmente Rimini Si è liberato Speriamo definitivamente Dell'ultima posizione Nella gradatore Appunto Della Serie C Andiamo subito Alla Romeo Neri Con servizio Alla Rimini In effetti Non bastavano più I consensi E gli applausi A intermittenza Arrivati dopo le ultime Due esibizioni Guarda caso Coincise con altrettanti Pareggi Quelli Contro Carti E Gubbio La squadra di Colella Voleva svoltare Nella sfida Contro il Modena Squadra Che si presentava Alla Neri Forte Di una posizione Di classifica Di assoluta Tranquillità E come vediamo Gioca sulle punte Praticamente il Modena Con questo diagonale Largo di poco Da parte di Spagnoli Al nono minuto Ma il Rimini È assolutamente Dentro alla partita Ci prova Con questa battuta Da parte di Gerardi Out La sua conclusione Dalla parte opposta Ancora il Modena Pericolosissimo Tulissi Sul cross Di Davi Ma la risposta Del Rimini Questa volta Fa letteralmente Male Ai canarini Giallo-blu Siamo al 41esimo C'è la possibilità Del cross Per Cigliano Colpo di testa Da parte di Scott Arlotti Il giocatore Che più rappresenta L'anima Del Rimini Giocatore Che è sostanzialmente Sbocciato In bianco-rosso Trova Il suo secondo centro stagionale Modena Nel secondo tempo Ci prova con Ferrario Che spara alto Commettendo anche però Fallo di male E allora Il Rimini Castiga 66esimo minuto Palma Pesca in area Ventola Entrato da pochissimo Gol E esultanza Sotto la curva est Per un Rimini Che a questo punto Deve solo Gestire Il doppio vantaggio Modena in attacco 77esimo In area di rigore Conclusione Per poco Ci prova Con il tacco Addirittura Rossetti Ma siamo ormai Giunti Nei minuti Di recupero La resistenza Del Rimini È proceduta Senza troppe Falle Senza troppe Difficoltà Un Modena Che si arena Letteralmente A Rimini Un Rimini Che può Finalmente Sbocciare Ottenendo il 2-0 Ai danni Dei giallo-blu Beh mister Questo è un grande Risultato Per il Rimini Al termine Anche di un ciclo Che adesso Viene esaltato Da questa vittoria Due pareggi Che sembravano Entrambi in rimonta Subita Adesso hanno Un altro valore Di l'occhio Io li ho visti Venerdì mattina All'allenamento Li ho visti Molto molto bene Tonici Vogliosi Di voler ottenere Poi aveva avuto Anche Un incidente Direi Calcisticamente Parlando Di Letizia Che secondo me È il miglior giocatore Che avevano In questo momento E non ha giocato Però ho visto Una squadra Compatta Vogliosa E mi sono detto Di là Di Spagnoli Che ha avuto Questa prima occasione I primi 20 minuti Il resto di Rimini È stato veramente Padrone della situazione Una situazione In cui È stato molto attento Dove spesso Regalava qualcosa Non ha regalato niente E devo confermare Che la Colella Sta lavorando In un ambiente Non ideilico Sicuramente Ma molto bene E si vedeva Ero insieme Anche a Cinquetti Una gloria Per Rimini Eravamo Solo io e lui Io vedevo L'allenamento E parlando Lui mi ha detto Confermato Guarda mister Che sta lavorando bene Tutti Nessuno parla Tutti tirano Per quella strada Vedrai che fanno bene Sabato l'ho vista E ho visto Che tranne i primi 20 minuti Sono stati padroni Poi è venuto Il gol da due Anders Sia Arlotti Che è già tre anni Che è lì E sia Ventola Ventola Si sono scambiati Il ruolo Lui ha sostituito Arlotti Che ha fatto gol E lui Ha ripetuto La doppietta Che l'ha meritato In pieno Per la convinzione Che hanno E anche La bravura Di Pastore Che gli ha portato Una squadra Completamente nuova A questo mister E in poco tempo Veniva da Da un tram Di sconfitte È rimasto È un caso unico Che uno su otto Partite Ne perde sette E rimanga Vedrai che ci hanno creduto E lui Ne è venuto fuori Con questi due risultati Due pareggi Una vittoria E lasciando L'ultimo posto Che tutto Rimini Era sconvolto E dispiaciuto Per quello Che stavano guardando La classifica Del momento Dal passaggio Di testimone Che ha annunciato Il mister Da Arlotti A Ventola Facciamo anche noi Un passaggio Di testimone Sia di campionato Ci spostiamo In serie D Sia di squadre Biancorosse Comunque Il Forlì Che a sua volta Ha ottenuto Un'altra vittoria Fondamentale Un'altra bella Boccata d'ossigeno In questo caso Per i biancorossi Della Galletto 1-0 Contro il Fiorenzuola Vediamo le immagini La brusca frenata Del Forlì Nelle ultime giornate Aveva un po' Raffreddato I sogni di Gloria Riavvicinando Pericolosamente I galletti Alla parte destra Della classifica Una squadra Quella di Mister Paci Che aveva comunque Dato segnali Incoraggianti Di personalità Nella trasferta Di Mantua E che Cristoggi Confidava nel colpo Da tre punti Contro l'inseguitrice Dei Virgiliani Quella Fiorenzuola Arrivato a Forlì Con intenzioni Davvero bellicose Lo vediamo subito L'imbucata Da parte di Boilini Per Tognoni Salva Ghertos Letteralmente Salvataggio Per la porta Biancorossa Forlì però Ben disposto in campo Recupera palla Baldinini Bonandi Ci prova Con una soluzione Comunque sia intelligente Anche se Imprecisa Eravamo al 26esimo Possiamo già spostarci Al 41esimo Perché gli ultimi Cinque minuti Della prima frazione Sono stati Veramente di fuoco In attacco C'è il Forlì Bella la combinazione Per portare in area di rigore Gomez La respinta Sulla linea di porta Da parte dell'estremo Difensore Battaiola Poi ancora In attacco Il Forlì Con questo tentativo A vuoto Da parte di Calabrese Ma andiamo avanti Zamani Mette al centro Un cross Palone solo spizzato Ma recuperato Da parte di Buonocunto Contro cross E da lì Fallisce Un'occasionissima Gomez Sottomisura Davvero sfortunato Qui Il Forlì Ma poi sfortunato Anche il collaboratore Del direttore di gara Evidentemente ricevuta Forse una pallonata Perde sangue Dalla naso Alla fine comunque Si potrà riprendere Dopo qualche minuto Di stop E come vedremo Tra pochissimo Si riprende Alla grande Per il Forlì Ancora in attacco Calabrese Va via sulla destra Mette al centro Un cross Proteste per Un mani In area di rigore Poi Bonandi Rimetteli indietro Per Zamani Contro cross Nuovo Colpo di testa Di Calabrese Alla fine Palla In angolo E dall'angolo Il pallone che spiove Si inserisce Baldinini Il gol Realizzato Proprio da parte Del capitano Che come vediamo Va a cercare L'abbraccio Non solo ideale Da parte Dei sostenitori Uno striscione Sostanzialmente Che profetizza Quello che Sarebbe poi Accaduto Il galletto Che fa un gol Il galletto Che riparte Nel corso Della ripresa Avanti di una rete Con un fiorenzuola Che però Ha un'occasione Colossale Guerrini Semina il panico In area di rigore E poi Incredibile Sottomisura Piraccini Sbaglia completamente La sua Esecuzione E così Ci spostiamo Dalla parte opposta C'è il fordino Attacco Pallone messo al centro Da Zamani Per Calabrese Chiude troppo L'angolo Della sua conclusione Siamo adesso Al venticinquesimo Calcio di punizione In area di rigore Uno schema Per Tonioni Sbaglia Da posizione Molto favorevole Resiste bene Il fordì Che addomestica La partita Siamo alla mezz'ora Del secondo tempo L'ultima vera chance Del match Questa conclusione secca Di Piraccini Che non riesce A riscattarsi Dopo l'errore clamoroso E allora sì Mandiamo in archivio Questo match Con il risultato Più dolce Per il fordì 1 a 0 Battuta La squadra Seconda in classifica Anche qui mister Possiamo parlare Di questo match Per testimoniare Una vittoria Fondamentale Vale un po' Quello che abbiamo detto Prima Una squadra Che comunque Stava maturando Questa vittoria Sì Direi che oggi L'ho visto Anche un attore Ha fatto dei cambi Interessanti Ha lasciato in panchina Giocatori come Ballatini Come Vesi Era andato per vedere Qualche giovane Soprattutto Bedei che non ha giocato Ma pensavo di vederlo Però Alla fine è vero Che loro hanno avuto Due o tre occasioni Importanti Ma è anche vero Che il fordì Ha meritato Perché è stato sempre Sul pezzo Ha lottato Fino Fino alla fine Coltello In mezzo ai denti Per cercare di portare A casa questa vittoria Ha trovato il gol Anche dal capitano Badini Che gol Ne fa pochissimi Però Lì ha fatto Una partita Importantissima Il solito Bonandi Che sappiamo Che giocatore E tutti Ci hanno messo Cuore e anima Gli è riuscito Questa vittoria Che gli dà Una salute importante Per lavorare Per il futuro Non abbiamo finito Con il campionato Di Serie D Perché c'è da vedere Quello che è accaduto Ovvero poco Da quello che ci viene Segnalato Nella derby Tra San Maurese Ed Alfonsina E Danica Però tra pochissimi 30 secondi Con Infotech Siamo con voi Che con un'esperienza Oltradecennale Nella consulenza E nello sviluppo Di servizi informatici È HP Platinum Partner Infotech Da sempre Propone tecnologie innovative In ambito Server e storage Workstation e PC Garantendo un servizio Di assistenza tecnico-sistemistica Rapido e affidabile Infotech propone L'ufficio efficiente E Green Affidati a noi Installando le nuove multifunzioni HP Page Wide A zero emissioni Di polveri sottili Mettiti comodo Infotech Troverà la soluzione Giusta per te www.infotech.it Continuiamo allora Continuiamo con Fischio finale Continuiamo con la nostra Puntata E come anticipato È il momento di vedere Il derby Del Macarelli Quello tra San Maurese E Alfonsine Il match Che è terminato Con un salomonico Zero a zero Vediamo La classifica Del Girone D Di Serie D Si era ricompattata Domenica scorsa Merito Delle diverse Squadre romagnole Tutte a segno Nell'ultimo turno Di campionato Quelle che inseguivano Inseguono La salvezza Eccezione fatta Chiaramente Per il Forlì San Maurese E Alfonsine Erano proprio state Tra le beneficiate Di un improvviso risveglio Da tre punti Quest'oggi Speravano di dare continuità A quei risultati E allora vediamo Al decimo minuto In attacco C'è la San Maurese Con la sponda In area di rigore Per la battuta alta Da parte di Afri Un passaggio Che gli era arrivato Da parte di Diop Spostiamoci Siamo al venticinquesimo Ancora in attacco C'è la San Maurese Con Costantini Che apre il pallone Sulla sinistra Beneficio di Nicoli Può cercare il cross Il numero tre Il pallone in area di rigore Santoni Che lotta E alla fine Viene contenuto Dal muro difensivo Allestito Dalla portiere Carroli Altra punizione Per la San Maurese La deviazione Da parte di Brighi E insomma C'è materiale Per andare a riposo Con una San Maurese Che probabilmente Recrimina di più Rispetto all'Alfonsine Anche perché in apertura Di ripresa Altra chance Sventata Sul colpo di testa Di Nicola Lombardi Molto bravo Il portiere Carroli Ma spostiamoci Il diciottesimo In attacco C'è l'Alfonsine Che chiede un rigore Con Riccardo Innocenti Contatto Sospetto Per il direttore Di gara Tutto regolare E allora Andiamo già Al trentanovesimo Della ripresa Fuori il colpo di testing Di Lombardi Ancora San Maurese A cercare La via del gol Spostiamoci Quarantesimo Altra cross Dalla sinistra La respinta Della difesa Dell'Alfonsine La battuta Dalla distanza Quella di Merciari Alta sulla traversa Nel finale però Come spesso accade Si allenta Un po' la tensione Dei padroni di casa Che fino ad ora Avevano costruito Le migliori occasioni E l'Alfonsine A provarci In area di rigore Il pallone Messo al centro Con il cross Pericoloso Da parte Di Maretti Magri Non riesce A trafiggere Il portiere Baldassarri Ancora in attacco L'Alfonsine Con Santucci Sulla sinistra Il duello Commerciali Salta l'uomo Alla fine Mette al centro Il pallone E c'è un altro Contatto Che Come vediamo Permette ai giocatori Dell'Alfonsine Di richiamare L'attenzione Dell'arbitro Che però Non viene più Sollecitata Match Che finisce E va in archivio Con un pareggio A reti bianche San Maurese 0 Alfonsine 0 Danica Abbiamo parlato Del Forlì Prima È il momento Adesso Di parlare Di queste due squadre Ma non solo Assieme a mister Magri Mister Se lo aspettava Questo pareggio Scialbo Beh Il pareggio Era come era Sicuramente La San Maurese In casa È una squadra tosta E questo pareggio Qui credo Che abbia Tanto valore Anche perché Venivano All'Alfonsine Da una settimana Forse anche di più Turbolente Di problemi societari Squadra Lì è stato bravo Gori Cercare Siccome È già un po' Che lì A capire La situazione Cercare di portarla avanti Al meglio possibile Ci è riuscito Chiaro che Qualche episodio C'è stato È difficile Poterlo commentare Ma sicuramente Entrambe le squadre Hanno lottato Per cercare Di trovare la vittoria Non l'hanno trovata Alla fine Si può dire Al di là Di qualche episodio Che il pareggio Sia giusto Giusto così Allora E noi Andiamo avanti Perché è il momento Di aprire adesso La pagina Dedicata All'eccellenza E allora La apriamo Con la capolista Il Lamarignanese Che passa Sulla 3 a 0 In casa Del Cavaronco Anche a Sant'Agostino Il Cavaronco Era sembrato Una squadra viva E battagliera Questa volta Però Neppure Dopo una Una doppia rimonta Era riuscita A incamerare Dei punti Come aveva fatto Nelle gare precedenti E con Cavaronco Che poteva mettere In difficoltà La Marianese Autentica Leader Del torneo Pietta per lui E Marignanese Questo Lai Motive Come la Cava Dei tanti filmati Automezzi Automezzi per trasporti Finale E' arrivato A frattempo A gancia Alla gara Andiamo Andiamo con le nostre immagini Sul fondo Renzi Palla Vittoria Per la squadra Ravennate 2-1 Sul Castrocano E allora Sì Possiamo andare Anche a Diegaro Diegaro Che è riuscito A battere Il Sant'Agostino Per rimanere A meno 3 Dalla Marignanese Sentiamo Due volte sotto Due volte capace Di rimontare Il Masi Torello Tra l'altro In inferiorità numerica Il Pari Strappato Domenica scorsa Dal Diegaro Con la doppietta Dal dischetto Di Spadaro Si poteva considerare Una mezza vittoria Anche perché Aveva permesso Ai Cesenati Di Mister Cucchi Di rimanere A distanza Di appena Un possesso Usando un termine Cestistico Dal Marignanese Rosso Blu In campo Quest'oggi Contro Il Sant'Agostino E Rosso Blu Che falliscono Subito Una grande chance Colpo di testa Sottomisura Da parte di Carlucci Davvero incredibile Come non sia Arrivato il gol In questa circostanza E allora La legge del calcio Che non perdona Il gol Lo affirma Il Sant'Agostino Fiorini Esecuzione Che non lascia Scampo Alcuno Al portiere Foyera Al 29esimo Avanti Il Sant'Agostino Che si affida Ad un portiere Improvvisato Si tratta Di Pallara Che salva così La propria porta Ma riceve In cambio Un rigore E un'espulsione Insomma Calcio di rigore Per il Diegaro Dal dischetto Sorin Radoi Impatta Al secondo minuto Di recupero Della prima frazione Uno a uno Tra Diegaro E Sant'Agostino Si continua a giocare Allora nella ripresa Con il Diegaro A provarci ancora Corradoi Salva la propria porta Il portiere Costantino Non è però uscito Di scena Il Sant'Agostino Con questa possibilità Sfiorata soltanto In era di rigore Da parte di Tonazzi Si resta Sull'uno a uno E il Diegaro Che ottiene Un altro rigore In mani E proprio di Tonazzi Le proteste E il cartellino giallo Per lui È il secondo Sant'Agostino Rimasto in dieci uomini Ma fallisce L'esecuzione Dal dischetto In questo caso Il Diegaro Con Spadaro Il Diegaro però Riesce comunque A portarsi a casa I tre punti Con il gol Proprio Di Spadaro Alla mezz'ora Della ripresa Ribaltato dunque Il punteggio E a questo punto Non si rischia più nulla Si va Direttamente Alla fine del match 2-1 Il punteggio finale Diegaro Che supera Il Sant'Agostino A porto E rimane A meno tre Dalla Marignanese Campo di Via Canapino Direttamente Negli studi Di Teleromagna Danica Per fermarci Per qualche altro minuto A questo punto Qualche altro minuto Magari un po' più lungo Perché aspettiamo Alla terza parte Di Fischio Finale Facciamo un salto Da OBS OBS Italia Building Automation Domotica Sistemi di sicurezza E video sorveglianza Riti e infrastrutture telematiche Per imprese Professionisti E attività commerciali OBS Italia Esperienza ventennale E soluzioni I chiavi in mano Come sempre Grande ritmo Per Fischio Finale Abbiamo appena congedato L'eccellenza Una battuta flash Mister Comunque abbiamo visto Un Diegaro Che non ha mollato Quest'oggi Ha saputo vincere Un match Che si era messo male Ma la marianese Ha dato l'ennesima Dimostrazione di forza Sicuramente sì Squadra ben organizzata Giocatore di valore Come ha Altronde anche il Diegaro Credo che sia Un finale di campionato E straordinario Diciamo che tutte e due Meritano sicuramente Il salto Però Non sempre così E diciamo Pure che vinchi il migliore Anche perché Lo ricordiamo Anche se io li ho degli amici In eccellenza Non ci sono i veri playoff Vale La prima posizione Per il salto di categoria E il secondo Per andare a fare Gispareggio Quello che volevo dire Assieme alla terza posizione Che è vicinissima Alla seconda Davvero Un campionato molto appassionante Ma lo è anche Il Gironici di promozione Quest'oggi lo dicevamo Grande rimescolamento Di tutte le carte Gratte Alla vittoria Che ha saputo ottenere Il Cotignola Match casalingo Dominato Dal Cotignola Sull'atletico Castenaso Vediamo E se c'è un campionato Che ricorda da vicino Quello di Serie A È proprio Quello di promozione Il Gironici La corsa per il primo posto È addirittura Più affollata Di quella della massima serie Visto che Alla vigilia Di questa ventitresima giornata C'era addirittura Un quartetto di squadre Racchiuso Nella brevissimo lasso Proprio Di quattro punti Tra queste C'erano comprese Anche Cotignola E atletico Castenaso Che iniziano alla grande Il loro scontro diretto Quanto meno Per i padroni di casa Diciassettesimo minuto Avanti il Cotignola Gol realizzato Da parte di Bavini Una conclusione Velenosissima Che vale l'1-0 Ma arriva la reazione Di quella Che a lunga è stata La capolista Del campionato L'Atletico Castenaso Scarica Semprini Sul fondo Al ventesimo Ventunesimo minuto Ancora in attacco Il Castenaso A porta vuota Il palo Centrato Da parte Di Capitanio Clamorosa chance Sprecata Dall'Atletico Castenaso Si salva il Cotignola Che passata la paura Prova a gabbare Anche lo santo Il palone In area di rigore La battuta Vincente Quella di Serra Al ventottesimo minuto Che trova L'angolino Alla sinistra Del portiere Taormina 2-0 Per il Cotignola Che continua a crederci In area di rigore Altra chance Sugli sviluppi Di un corner Leonardi Va solo a un soffio Dal possibile Tris E allora Attenzione ancora L'Atletico Castenaso La splendida Esecuzione Di Semprini E poi arriva La segnalazione Di un offside Dopo la traversa Ma c'è ancora Speranza C'è una possibilità E un gol Annullato A Serra Probabilmente Per offside Le immagini Non ci consentono Di dirimere Fino in fondo Quest'ultimo dubbio Ma si resta Sulla 2-0 Andiamo allora Nella ripresa In attacco Ancora il Cotignola Che prova a fare Come nella prima frazione E a mettere subito Pressione C'è un contatto Molto sospetto Ai danni di Paganelli Non c'è rigore C'è un'altra chance Per il Cotignola Il salvataggio In extremis Di Taormina Su Babini Che mantiene ancora vita Viva la speranza Di accorciare le distanze Ci prova Con questa esecuzione L'Atletico Castenaso E alla fine Arriva la segnalazione Calcio Di rigore Per l'Atletico Castenaso Dalla dischetto Si presenta Il numero 11 Che sbaglia Semprini L'espertissimo Giocatore Che però Batte sul fondo Altra possibilità Punizione Proprio di Semprini Schiaccia troppo La sua esecuzione Di testa Macaluso Si resta sul 2-0 Cotignola in attacco Altra chance Altro colpo di testa E palo Davvero Incredibile Quello che sta accadendo Di tutto e di più Davvero Tra queste due squadre Esce a vuoto Il portiere Del Cotignola Bagnolini E alla fine Si salva La squadra padrona Di casa Che deve resistere Anche nel recupero Colpo di testa Che viene intercettato Quello di Arcesilai Siamo ormai Negli ultimi secondi Di una gara Davvero Clamorosa Quella Che va in archivio Con la vittoria Della Cotignola 2-0 Ottenuto Proprio ai danni Dell'Atletico Castenaso Bene Siamo sempre in attesa E nella speranza Davvero Di poter Rendere felici Tutte le province Della Romagna Quest'oggi Abbiamo fatto vedere Le vittorie di Forlì E Cesena La vittoria Del Rimini E adesso Speriamo che ci arrivino In tempo Anche i gol Con cui Il Ravenna Ha sbancato Il campo Della San Benedettese Comunque sia Danica Dobbiamo parlare Anche di altri campionati Tra pochissimi Un salto da Jagraf E siamo con voi Jagraf Tipografia dal 1977 Si serve Della massima tecnologia Per affermarsi come struttura Che offre un prodotto Di altissima qualità A prezzi concorrenziali E con consegne In tempi rapidissimi Jagraf Ti propone servizi Che spaziano Dalla stampa pubblicitaria Ed editoriale Come Deplian Cataloghi Brochure Libri Riviste E calendari Alla stampa commerciale Con tutta la modulistica aziendale Jagraf La tranquillità di un servizio Sempre all'altezza delle aspettative E insomma Tante Tante capolista Fino ad ora Abbiamo visto Nella nostra trasmissione Abbiamo visto in azione Tante squadre Davvero forti Una di queste Che adesso Andiamo a vedere È invece Il Russi Che domina Il campionato Di promozione Girone D Quest'oggi Aggiudicandosi Un combattuto Molto combattuto Derby contro il bagno a cavallo 2 a 1 Non era certo Un inedito In questo campionato L'allungo del Russi Ancora Una volta I falchetti Erano tornati a più 4 Sul secondo posto Grazie Alla cinquina Rifilata A domicilio Alla Vissa Nova Feltrea Ed è merito Anche Della straordinaria Giornata Del re Salomone Autore All'epoca Di un poker Di gol Quest'oggi Match casalingo Contro il bagno a cavallo L'obiettivo è quello Di rimanere a distanza Di sicurezza Rispetto alle inseguitrici Ma come vediamo È un Russi Subito arrembante Il cross Che arriva dalla destra Di Keita E Dumitru Fallisce però La sua esecuzione Bagnacavallo Insidioso Alla settimo Marilungo Conclusione Che alla fine Viene fermata Dal quartiere Bartolini Ancora in attacco Il bagno a cavallo Il cross è dalla destra In questo caso Quello respinto Dalla difesa Dei Falchetti Dalla parte opposta Colpo di testa Di Gualandi Palla alta Sul fondo Andiamo con le immagini Al ventesimo minuto Calcio di punizione Per il Russi Esecuzione La difesa La difesa ospite In particolare Francesconi La presenza Di Salomone Che come vediamo È impegnatissimo A mettere pressione Riceve pallara In area di rigore Può sbloccarsi Il centravanti Del Russi Che però sfiora Soltanto Il palo Eravamo al cinquantesimo Ma adesso siamo Al cinquantottesimo Sempre Salomone A lottare sul pallone In area La sua esecuzione La palla salvata Dal quartiere ospite Davvero splendida La risposta Di Merendon C'è però la possibilità Da un altro corner Dal corner Dalla destra Per il Russi Che chiude Ancora Con Dumitru Colpo di testa Sottomisura E doppietta Per l'attaccante Prelevato proprio In inverno Da parte Del Russi Ma il bagnacavallo Prova a rimanere in partita E ottima L'entrata In area di rigore E l'assist Per Marilungo Splendido Quello Vindiaie Gol che sostanzialmente Va diviso a metà Fra questi due giocatori Anche se l'ultimo tocco È chiaramente Quello di Nicola Marilungo 2-1 E Russi Che ricomincia da capo A premere A cercare Ancora il Tris Con questa colpo di testa In area di rigore fuori Con quest'altra punizione L'esecuzione Al volo E la palla Che sfila sul fondo Si resta Sul 2-1 Punizione In questo caso Per il bagnacavallo Battuta da Calderoni Il direttore di gara Dice che Può bastare così Nonostante anche La presenza In attacco Da parte del portiere Del bagnacavallo Insomma Un Russi Che alla fine Riesce a ottenere Esattamente Quello che voleva Ottiene I tre punti Mantiene Inalterate Tutte le distanze Rispetto al secondo posto Grazie A questo 2-1 Ottenuto Ai danni Del bagnacavallo Danica Rimaniamo Con i piedi Ben ancorati Allora Questo campionato Di promozione Parliamone Assieme a Giancarlo Magrini Certo E poniamoci anche sotto Uno sguardo complessivo Mister E allora Mi viene da chiederle Tra le tante Inseguitrici Del Russi Ce n'è una Meglio equipaggiata Nel campionato Di promozione C'è questa sorpresa Veramente Di queste due squadre Tipo Faenza E San Pietro In Vincoli Che secondo me Stanno facendo cose straordinarie Faenza Che è molto giovane San Pietro In Vincoli Ben organizzato Ma non c'è da togliere Nulla Al Torconca Perché è una squadra esperta È una squadra Decisa Se si trova A solo A quattro punti Dalla vetta Da un russi Straordinario Evidentemente Dimostra di avere Dei valori importanti Anche loro Queste sono Diciamo Le tre squadre Diciamo Metterci anche I San Pietro In Vincoli Perché se i punti Alla fine Non sono Poi tanti E basta una partita Storta Per andare Su delle paure Delle situazioni In cui ti mettono In difficoltà E non c'è Tranquillo E quando non sei Tranquillo Tutto diventa Difficile E credo Che il campionato Sia Buono Buon livello Perché ci sia A 40 punti A 45 Sono 5 6 squadre Che si giocano Il secondo posto Se non dire il primo Il crea un traguardo Importante Che comunque Anche arrivare Secondi Si può fare Il salto Di qualità Assolutamente Sì Fa bene Mister Magrini A sottolineare Come anche Questo campionato Sia equilibratissimo Come praticamente Tutti quelli Che vi stiamo Testimoniando Anche quello Che tra pochissimo Danica Vi porteremo All'attenzione Ovvero La prima Categoria Girone G Ci fermiamo Però adesso Come dico sempre Ultimo ma non ultimo Sponsor di questa sera Sport Center Corri da Sport Center Ti aspettiamo Con una vasta scelta Di articoli sportivi E per il tempo libero Qui puoi trovare Tutto quello Che va per te Vieni a scoprirci Nel nostro punto Vendita a Cesena O visita il sito web Sport Center Dall'attrezzatura sportiva Ai marchi di abbigliamento Più ricercati E allora Prima categoria Girone G Come dicevamo Poc'anzi Anche qui Le tante Capoclassifica Ce n'è una Che lo è rimasto Anche se In realtà Quest'oggi Ha incassato Una sconfitta Ed è stata Raggiunto Al primo posto Dalla frata Terme Parliamo Del Meldola Sconfitto Dal Carpena 1-0 Vediamo La doppietta Di Grimellini Sul campo Del Virtus Faenza Aveva Aperto scenari Inesplorati Per il Meldola Che si trovava In fuga Al comando Del Girone G Di prima categoria Una vetta Che però Era da difendere Dagli assalti Proprio Del frata Terme Intanto Vediamo Uno striscione Forse Dedicato Ad un Tifoso Del Meldola Il colpo Di testa Lo vediamo Subito Alla settimo Quello di pezzi Palla Sul fondo Ma è un ottimo Carpena All'inizio Del match Siamo adesso All'ottavo Altro cross Altra situazione Pericolosa Quella Creata Dall'intervento Di Morgagni Palla Sul fondo Continua A spingere La squadra ospite Diciasettesimo minuto In area di rigore Il cross E la palla Letteralmente salvata In questo caso Da parte di Marcucci Per quanto riguarda Il Meldola Che finalmente Prova a farsi pericoloso Al ventisesimo In area di rigore La grande risposta Di Gardini Su un colpo di testa Ravvicinato Meldola Avvicina il gol Carpena Sempre però minaccioso Con deviazione Quella di pezzi E la palla Letteralmente A sfiorare il pallo Così come Davvero Si susseguono Le occasioni In questo caso È Battistini A provarci Eravamo al Quarantaquattresimo Della prima frazione Spostiamoci Nella ripresa Calcio Dalla distanza Quello effettuato Da Ranieri Sul fondo Siamo al ventiduesimo Sbaglia qui Sbaglia qui Completamente la mira Però il giocatore De Gennaro Allora calcio Di punizione Per il Carpena È un po' calato Il ritmo Anche se Qui si fa trovare Pronto Casadei La possibilità Per il Carpena Che sta Veramente costruendo I presupposti Per il gol Altra situazione Quella di Ranieri Sventata dal portiere Ma poi Carpena Che riceve L'espulsione Quella di Quadrelli Doppio giallo Per lui Alla trentaduesimo Minuto Ma un doppio giallo Che comunque sia Motiva Il Carpena A trovare L'euro gol Ranieri Toglie letteralmente Tutte le ragnatele Dall'incrocio 1-0 In casa del Meldola Che a questo punto Ha pochi minuti Per rimediare Corsani Non riesce A 5 Dalla fine A impattare i conti E allora l'impresa Di giornata Quella del Carpena 1-0 Vittoria In casa Del Meldola Questo per quanto riguarda La prima categoria Girone G È il momento però adesso Di aprire L'ultima pagina Della nostra Trasmissione Ma abbiamo ancora Due partite Da testimoniarvi Nella seconda categoria Girone P Due partite Molto importanti Per la zona alta Della classifica Iniziamo con il match Che riguarda Il Villaverucchio Vittorioso Sulla Mulazzano 3-1 Gruppo Italia SRL Via Andrea Costa 111 Sant'Arcangelo Di Romagna La classifica Continuava a dare Speranze Molto fondate Non solo Di qualificazione In playoff Ma anche Di un reinserimento Nella corsa Alla primo posto Per il Villaverucchio Chiaramente Chiaramente Questa oggi Rosanero Non dovevano Lasciarsi sfuggire I tre punti Nel match Casalingo Contro il Mulazzano Una sfida Che si presentava Molto delicata Anche per gli ospiti Sempre impegnati A evitare I play out Andiamo all'undicesimo Minuto in attacco C'è il Villaverucchio Questa conclusione Effettuata Da parte di Bettini Alta Per quanto riguarda Il giocatore In maglia numero 11 Poi anche Donati A provarci La palla Però è spinta Da un difensore Siamo adesso Al 26esimo Ancora Pallone recuperato Dal Villaverucchio In area di rigore C'è la possibilità Per l'esecuzione Da parte di Bettini Palla Che sfila Sulla fondo Quarantesimo In attacco Adesso c'è anche Il Mulazzano Colpo di testa Di Romani Alto Alto sulla traversa Ma a pochi minuti Più tardi Ancora il Mulazzano Che sorprende Letteralmente Il Villaverucchio Da un lancio lungo E Andruccioli A scavalcare L'estremo difensore Favarelli Cogliendolo Sostanzialmente Nella terra di nessuno Ma davvero Pregevolissima L'esecuzione E Mulazzano A sorpresa Avanti In casa Della Villaverucchio Che adesso deve reagire C'è Abidun Siamo nella ripresa Siamo al primo minuto Per una Villaverucchio Comunque Che sa Come rimettersi In partita Con questo splendido Sinistro Di Bettini Che vale L'immediato pareggio Quanto meno Immediato Rispetto alla ripresa Delle operazioni E a questo punto Spingono i giocatori Padroni di casa Bello scambio In area di rigore L'esecuzione Vincente Da parte di Zanotti Che sfrutta L'assist Di Drudi E il sorpasso 2-1 Per il Villaverucchio E ancora la possibilità Diciannovesimo minuto C'è Abidun Fa tutto da solo Cerca di saltare l'uomo Alla fine Alla fine Un'altra conclusione C'è ancora Abidun La sua rovesciata E la traversa Clamorosa Esecuzione Clamoroso Anche la sfortuna Intanto Arriva l'espulsione Per il Villaverucchio Non Abbiamo le immagini Ridotto in 10 Arriva anche il rigore Per il Mulazzano Ma arriva la parata Viene sostanzialmente Ipnotizzato Dal portiere Favarelli Romani 2-2 Mancato E rigore Dalla parte opposta Questa volta Va giù Abidun Sul contatto In area di rigore Dal dischetto Ci prova proprio lui Per cercare Il quattordicesimo Centro stagionale Lo trova Spiazzando Il portiere ospite Il portiere del bianco È il gol Che fissa il punteggio Sul 3-1 Come detto Purtroppo Siamo ormai vicini Alla fine della puntata Non sappiamo Se ci arriveranno In tempo Le immagini Probabilmente no Della Ravenna Ma noi siamo pronti Comunque a chiudere Con l'impresa Del Rimini United Che sbanca Il campo del Bella Riva 3-2 Sentiamo Macron Store Via Flaminia 371 Rimini Telefono 0541 1741980 Tre squadre In tre punti San Lorenzo Accademia E Bella Riva Così si affacciavano Alla nuova giornata Di campionato Nella seconda Girone P Esattamente In quest'ordine Per i primi Tre gradini Del podio Tutte distaccate Di appena un punto A dimostrazione Della clamorosa Equilibrio Che regnava Sovrano In questa categoria E possiamo dirlo Che regnerà Sovrano Anche alla fine Di questa giornata Tre squadre A comandare Il girone Tre squadre Tutte quest'oggi Sconfitte Anche perché Come vedremo Tra pochissimo Il Bella Riva Non è riuscito A vincere La resistenza Del Rimini United Che già al primo Minuto di gioco Approfitta Di una clamorosa Indecisione Dei padroni di casa Per trovare Il vantaggio Firmato da Mongioi 1-0 Per gli ospiti E davvero Una sorpresa Autentica Forse non era entrato In partita Il Bella Riva Che prova a farlo successivamente Calcio di punizione Dal punto di battuta C'è Canini La sua battuta La sua conclusione Va vicina al palo Ma nulla da fare per lui Il gol però È solo rimandato Dall'undicesimo Ci spostiamo Alla sedicesimo Minuto di gioco Prova a spingere Il Bella Riva Lancio In profondità Controllato E alla fine Arriva Una clamorosa Conclusione Da distanza Quella di Renzi Il gol Splendido Per firmare Il pareggio Il tredicesimo Centro Stagionale Per lui In questo caso Non irreprensibile Però il portiere Morelli In realtà però Il match Non cambia Il copione Se non era stato Irreprensibile Morelli Altrettanto Si può dire Per quanto riguarda Tangari Che si lascia sfuggire Il pallone È il gol Del Rimini United Nuovo vantaggio Firmato da Maggiore 2-1 Al venticinquesimo Minuto E partita Che torna Sullo stesso Spartito In precedenza Già visto Ma adesso Il Rimini United Ci crede Come Il ventisettesimo Minuto Il cross Forse Oppure Un'esecuzione Splendida Comunque sia Maggiore Si regala Una doppietta Incredibile Sorprendendo In questo caso Il portiere Tangari Con questa Battuta Vincente 3-1 Dunque È match Che a questo punto Deve assolutamente Ricucire il bella riva Calcio di punizione La palla che resta viva E il salvataggio Sulla riga di porta Sulla battuta Di Renzi Il pallone Che resta vivo Per il tentativo Sulla sinistra Però Fermato Da parte Appunto Del Rimini United Una match Che ancora una volta Si riapre 43esimo minuto È Renzi A trovare il gol Sottomisura Il punto Che vale Il 2-3 Che apre Dunque Le porte Ad un match Che sta diventando Sempre più vivo Siamo adesso Al 45esimo In primo tempo In area di rigore Il cross L'errore Di Semeraro Sull'assist Splendido Quello di Nanni Sempre 2-3 Ma come vediamo I presupposti Per un possibile pareggio Ci sarebbero ancora tutti Siamo adesso Nella ripresa Sempre in attacco Il Bellariva Che deve impattare i conti Altro cross Altro salvataggio Questa volta I danni di Sagliocco Una Bellariva Che comunque adesso Sta spingendo Con tutte le proprie forze 52esimo minuto Controlla il pallone In area di rigore Renzi Ci prova ancora Ma non riesce a trovare La via del gol Come detto Con anche un po' Di sfortuna 62esimo minuto Perde palla Qui invece Il Bellariva Può provarci Con questa percussione Personale Bigi In area Il sinistro Allarga troppo però La misura Del compasso Spostiamoci adesso Però Alla settantesimo minuto Calcio di punizione In area di rigore Il pallone Che resta vivo L'esecuzione Doppia Prima quella di Collina Alla fine L'errore grave Sottoporta di Renzi Non riesce A impattare Sul tre pari E allora Spostiamoci Alla novantesimo minuto Altra chance Forse l'ultima Per Il Bellariva Spettacolare Quella tentata Da Spadoni Però non Inquadra La porta E allora L'impresa Alla fine Viene Mantenuta E consolidata Dalla Rimini United Che batte Il Bellariva Con il punteggio Di 3 a 2 Siamo allora Tornati In diretta Siamo all'epilogo Match Che purtroppo Non ci è arrivato In tempo Ma come Già detto Anche la settimana Scorsa Vi daremo Tutti gli aggiornamenti Del caso Nelle edizioni Di domani Dei nostri Telegiornali sportivi E vi daremo Tutte le notizie E i ragguagli Invece a Pianeta Bianconero Per quanto riguarda Il successo Della Cesena E allora Io ringrazio Come sempre Per essere stato Qui con noi Mister Giancarlo Magrini Grazie mister Buonasera Grazie a voi Che avete chiamato Grazie anche A Danica Russo Che rivedremo Domenica prossima Danica Chiudiamo qui La nostra puntata Anche io ringrazio Qua in studio E ringrazio Come sempre Voi telespettatori Da casa E allora L'appuntamento È prefissato Per domenica prossima Come sempre A partire Dalle ore 19 E niente Buona serata Prima di salutarci Facciamo un salto Dalla centrale Del latte di Cesena Arrivedere Centrale del latte di Cesena Dal 1959 Il buono della tua terra Solo prodotti Del territorio romagnolo A chilometro zero Di altissima qualità Per la tua famiglia Pretendi il meglio Scegli il gusto del latte Formaggi E gelati di Romagna 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 sport primo dal 2001 La prima testata giornalistica Che ha creduto nello sport Dilettantistico online Il primo sito in Italia Che ha pubblicato le foto Dei singoli atleti e tecnici I primi ad aggiornare I risultati live Durante le gare Proprio come i professionisti I primi a pubblicare La carriera degli atleti I primi e gli unici Ad avere il calciomercato interattivo I primi a dare spazio Alle news di tutti gli sport Romagna Sport Il primo sito sportivo in Romagna In tutto Il primo sito sportivo in Romagna